Amici di Battista 70 Phone, andiamo a vedere come si comporta il Motorola Razor nella riproduzione di video in Full HD. Abbiamo abilitato la visualizzazione desktop tramite la classica scritta about the bug qua sopra, selezionandolo dalle impostazioni. Andiamo a selezionare il solito video di Matrix, vedete 1080p in HD, selezioniamo 1080p da qui, ok diamogli il tempo un attimo di caricarlo, ok ora lo sta caricando e mettiamo lo schermo intero. Questa è la visualizzazione in 1080p. Mi è stato chiesto, come potete vedere rallentamenti non ce ne sono assolutamente. Adesso vabbè ovviamente il tempo di caricare il video ma come vedete la riproduzione è assolutamente fluida. Non abbiamo scatti come abbiamo notato anche su altri terminali, lasciamolo andare un po'. Come potete vedere riproduzione assolutamente fluida, nessun tipo di problema, ripeto il video come avete visto è un Full HD, l'abbiamo fatto in diretta quindi non abbiamo fatto nessun imbroglio tra virgolette. Questo è quello che vedete. Potete notare che nonostante sia in streaming, Full HD, la riproduzione prosegue a dovere. Vabbè adesso lasciate stare il tempo di caricamento, ovviamente quello che è, siamo in wifi e per cui vabbè dipende anche da quello. Che dire, altro punto a favore di questo dispositivo. Con questo concludo, un saluto da Loris, alias Battista70 per Battista70 Phone. Ciao!